I campioni nel loro cuore batte un pallone, sanno giocare, voglio sfondare Agni e danci, hanno la forza e l'umiltà, e tanta volontà Voglio tante golle ad or, scatta e segna tanti gol Ben ci pare i casi di rigore Che i campioni vogliono Banzai Arigato Giappone Arigato Giappone Giappone sana Non è stato Banzai Purtroppo Purtroppo, purtroppo, purtroppo non è stato Banzai anche questa sera È finito il sogno Si è interrotto il sogno Questa splendida favola mondiale dei nipponci Per Japan Paese di Samurai Purtroppo 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 E' quello che mi hanno fatto vivere Chi fosse andato nell'intervallo un vantaggio non avrebbe rubato nulla, infatti c'è andato prima al Giappone con 1-0 di Maeda, poi nel secondo tempo la Croazia è entrata dentro con un altro piglio, è entrata dentro con un altro piglio e si è visto, è arrivato il pareggio di Perisic e poi lì è stata una battuta molto tirata, leggermente più avanti la Croazia come prestazione, però loro sono riusciti a portarli fino ai supplementari poi rigori. Tanto di cappello contro una squadra che sono i vice campioni del mondo, tanto di cappello a questi piccolini giapponesi, tanto di cappello e le ringrazio per quello che mi hanno fatto vivere. Comunque ragazzi state tranquilli che piano piano, piano piano si riveleranno tutte, 10-15 anni, 20 anni come ho detto nel video di qualche giorno fa, ogni evento si vengono sempre più preparate queste nazionalità, sempre più pronti con giocatori, sempre più di esperienza e di qualità. Aspettatele, statele certi che 15-20 anni e ve ne riparleremo, le mondiali, ve lo dico io, ve lo dico, onore a loro ragazzi, comunque per chiudere, per chiudere, perché ho voluto fare questo video, cerco di evitare le mondiali perché non me ne frega un cazzo, me ne frega il giusto, io penso, non vedo l'ora che inizi il nostro Milan, il campionato, tra poco, qualche giorno ci saranno amichevoli, a Dubai, e non aspetto altro. Però questo me lo sono sentito di dire per porgere i miei ringraziamenti a questo Giappone, così come lo è stato Senegal, come lo è stato. I miei ringraziamenti, gli Stati Uniti, i miei ringraziamenti, arigato, nippon, arigato, ringraziamenti. E mi resta che salutarvi con BANZAI! Il campionato sia per Oli sia per Benji, soppianti con il diavolato, che campioni con gli Ebenji, questa coppia eccezionale, viverà la nazionale!